castello fiabesco chi ore sono? oh no sono evatardo devo prepararmi in fretta e furia ho un colloquio di lavoro che cosa mi metto? questo no questo nemmeno questi sono i vestiti di Federica dove sono i miei? dov'è Federica? Federica! 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 dove sono i miei vestiti? sono in lavatrice perché? ma come perché? adesso io che mi metto per il colloquio? era tutto sporco e ho deciso di fare una lavatrice e non lo sapevo mica che dovevi uscire e io adesso come faccio? uffa! ehi ragazzi una tragedia ma che succede? Ken calmati e raccontami che cosa è successo ho un colloquio di lavoro importantissimo e non ho niente da mettermi ed è tutta colpa di Federica ma che ci posso fare io se lui non ne fa mai le sue cose che vuole fargliele io? insomma ragazzi basta litigare vediamo che cosa ti puoi mettere dei vestiti di Federica non ho nessuna intenzione di mettermi dei vestiti da femmina ma come non vuoi metterti i vestiti da donna? ma guarda che bello! ma che ti sei scimulita? non ci andrò mai a un colloquio di lavoro con un vestito così non ti preoccupare Ken nessuno te lo vuole dare questo vestito non sia mai meno sporchi uffa! meno male Ken hai mai sentito parlare di abbigliamento unisex? oh mamma Sydney che cos'è? è un tipo di abbigliamento che va bene sia per i maschi che per le femmine ecco per esempio guarda ti puoi mettere questa maglietta qui buona idea però non posso mica uscire con i pantaloni del pigiama ma hai perfettamente ragione non si va a un colloquio di lavoro in pigiama ma che colloquio di lavoro è? è un colloquio per diventare bagnino ah ma allora ci puoi andare anche semplicemente con degli shorts yeah token vai a misurarti questi vestiti va bene non sverciate eccomi qua che dici così mi prendono a fare il bagnino ma certo se così mi rendi Ken ti servono anche delle pantofole ogni bagnino che si rispetti deve avere un fischietto allora Ken andiamo in piscina e noi figli veniamo con te ehi poi è il mio berretto per andare al lavoro oh Ken quanti problemi mettiti questa visiera oh così è anche meglio ok ragazzi saltate a bordo che hai sulla pelle che hai sulle labbra Federica Federica Silvi mi hanno preso a lavorare ma bravissimo evviva evviva mamma Federica ci serve subito un bagnino bagnino ma dov'è un bagnino un bagnino un bagnino un bagnino un bagnino ci serve un bagnino ma veramente non sei tu il bagnino ah giusto ma basta a prendere tempo ok potete in acqua aiuto oh Ken si vede proprio che sei un professionista è tutto a posto sei un risalvo Federica grazie Ken sei il mio eroe ma figurati è il mio lavoro tutto è bene quel che finisce bene e tu che cosa vuoi diventare da grande? ciao ciao